Siete fantastici! Non vedo quanti siete, ma bravi. Maestro, possiamo iniziare. Mi sono alzato, mi sono vestito, e sono uscito solo, solo, per la strada. Ho camminato a lungo senza meta. Finché ho sentito cantare in un bar. Finché ho sentito cantare in un bar. Ehi! Ehi! Cantone, fumo, e l'allegria. Io ti ringrazio sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore. Ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo il mio cuore. Ehi! Sì! Felicità! Ti ho perso ieri ed oggi ritrovo già. Per te testa corrispondata senza paura. Per me! Sì! Sì! Ti immagini la faccia che farebbero, se da domani davvero, davvero tutti quanti smettessimo. Ti immagini quante famiglie sull'astrico, altro che crisi del dollaro, questa sì che sarebbe la crisi del secolo. Immagini se fosse sempre domenica, tu fossi sempre libera, e se tua madre fosse meno nevronica. A meno che non siate già tutti d'accordo con me, che c'è qualcosa che, qualcosa che non va. Non so, però, ma, secondo me, qui c'è qualcuno che ha sbagliato il mestiere. Non voglio mica dire che sei malafede, per carità, però, però, qui qualche cosa non va. Grazie! 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 L'enologo per impegno, il re del sax, il musicista di musicista di tutti i musicisti, Beppe Merdicchio Giuliano! Lo sciupa femmine del mondo, il principe del computer, il re del canto, il mitico, unico, grande, Pasciamo! Grazie! Siamo chorando noi! Siamo chorando noi! Siamo chorando noi!